Tavoli di nuovo pronti ad accogliere i clienti di bar, ristoranti e pizzerie, imprenditori con metri alla mano per non sbagliare, per attenersi alle disposizioni regionali e governative. Troppe regole per il taglio del nastro di ieri sera e della riapertura, pochi clienti, per lo più giovani, seduti dinanzi ai bar. Con mascherine e guanti non è certo facile tornare a mangiare fuori, ma i ristoratori restano comunque fiduciosi. Bisognerà abituarsi non solo a nuove regole, ma a vivere il pranzo e la cena in compagnia e in maniera diversa. Quasi tutti ieri sera hanno nuovamente apparecchiato i tavoli, bene l'afflusso di gente alla rotonda, così come sul corso Vittorio Emanuele nel centro storico in via Roma. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ieri sera accompagnato dall'assessore D'Aleurofredo, ha fatto un giro tra i ristoranti della città nel giorno della ripresa del servizio ai tavoli, rivolgendo un appello ai gestori, agli avventori della Movida, alla responsabilità, perché se è vero che i contagi si sono ridotti, la battaglia contro il Covid non è ancora terminata. Vi garantisco che sono sano, ho dovuto spendere 100 euro per la pistoletta che mi dice che sto bene. Io vi invito ad uscire ragazzi perché oggi capisco il problema, non lo devo spiegare io, non sono stati capaci gli addetti di spiegarlo. Io sono un comune mortale il quale si dice Salerno è positiva nel senso che non abbiamo grandi problemi, dobbiamo cominciare a fidarci, essere educati fra di noi. Io sto tentando di usare tutte le accortenze per chi verrà e mi auguro per gli altri che possano aprire perché, signori, riaprire non è più per tutti. Ormai siamo poveri. Pensavo che comunque, dopo il tempo che sono stati a casa, che comunque hanno atteso, pensavo che dovevano scendere prima o poi, quindi ci sarebbe stato un ritorno, però non così in grande stile, diciamo. Questa riapertura dei tavoli è un momento importante perché, come per la gran parte delle attività salernitane, lo spazio esterno è un fattore molto determinante e incidente su quello che è il fatturato di un'attività, quindi è una buona ripresa. Il problema di base è che giustamente la maggior parte delle persone che appartengono al ceto medio, non avendo recepito stipendi per due mesi e con la paura di tutte le storie che hanno sentito in questi ultimi due mesi, si ritrovano, se vuoi inquadrare il passaggio, si ritrovano a camminare per strada. Uno sembra che la situazione è rosia, si sta riprendendo, ma hanno la testa che sta andando e la tasca vuota. Perciò è solo passeggio, quindi la situazione è estremamente negativa. L'entusiasmo è tanto, così come l'incertezza, perché la voglia di normalità della gente c'è, lo possiamo vedere dal movimento che c'è sul corso qui di Salerno, però non abbiamo ancora ben capito, nessuno di noi, né noi, né i clienti, come sarà effettivamente andare al ristorante, perché si è pensato a tutto fondamentalmente, alle misure, al metro, spalla e spalla, il gel sanificante, i dispositivi di protezione individuale, eccetera, però la parte più importante, la cosa più importante a cui non ha pensato nessuno, secondo me, è lato emotivo. Cioè andare al ristorante la sera o in un bar o in una pizzeria o in un'attività commerciale è diventato un po' un passaggio tra una misurazione della temperatura, i guanti, la mascherina, i camerieri con questi dispositivi. Quindi dobbiamo capire bene come sarà l'impatto con i clienti. Crediamo e confidiamo nella ripresa e quindi anche da parte delle persone di avere un attimo più di non avere paura, anche perché comunque se si prendono le giuste precauzioni non bisogna avere paura, bisogna affrontarlo e il mio modesto parere è una cosa che comunque per il prossimo anno ci dobbiamo convivere. Quindi come tutte le malattie le dobbiamo affrontare, avere comunque cura di noi e andare avanti. Le perplessità sono appunto nel far ritornare le persone all'interno degli esercizi commerciali, riprendere le vecchie abitudini e pian piano tornare alla normalità, che sicuramente non può essere una mascherina o la mucchina all'ingresso, però riabituarli di nuovo a rientrare all'interno dei nostri esercizi.